FACCIAMO FESTA RONPE IL PENSO TRASMISSIONE INTERCETTATA, SIGNORE I GORGONAUTI SONO VIVI E BIVACCANO NELLA BASE NEMICA Il nemico ha rivelato un'antica tebolezza, signore Sono certo che per te metterebbe la testa a posto Io almeno lo farei Mettiti in lista per un encomio Soldati, abbiamo un'ottima opportunità La sfrutteremo Staneremo il nemico e schiaccieremo i gorgonau Dobbiamo varcare le linee nemiche per catturare un ostaggio Preparatevi alla missione Avanti, miei prodi